Carabinieri della Compagnia di San Giovanni a lavoro in questi ultimi giorni su vari fronti. Il primo, quello della lotta alla mafia. A Castelfranco di Sopra i militari della locale stazione hanno messo le manette ai polsi di un 69enne proveniente dalla provincia di Caserta ma residente in Val D'Arno. Sull'uomo pendeva una condanna per associazione di stampo mafioso con un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. I reati commessi si riferiscono al 2007-2008 commessi a Casa Pesenna in provincia di Caserta dovrà scontare 6 anni e 20 giorni. Nel campo della guerra alla droga gli uomini dell'arma della stazione di Levane invece hanno denunciato in stato di libertà un minorenne trovato in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri hanno perquisito la sua casa dove sono stati trovati 56 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, due francobolle allucinogeni ed un bilancino di precisione. Altro fronte è quello delle sostanze alcoliche, in questo caso in azione i carabinieri della stazione di Terra Nuova e Castiglion Fivocchi che hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza due giovani di 25 e 28 anni, entrambi residenti nel territorio valdarnese. I due sono stati fermati per un controllo mentre erano alla guida delle loro vetture. Dopo le verifiche all'etilometro sono risultati avere un tasso di alcol nel sangue rispettivamente di 1,63 e 1,26 grammi per litro. Immediato per i due giovani il ritiro della patente.